Amici 2023, la tragica notizia in diretta tv, è morta all'improvviso. Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di immergervi nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Ieri, il 23 novembre 2023, è stata una giornata emozionante nel contesto delle C-Show e di Canale 5, noto come Amici di Maria De Filippi. Questo episodio speciale verrà trasmesso domenica pomeriggio a partire dalle 14. E sì, nel corso delle riprese, è accaduto di tutto. Ci sono stati colpi di scena a non finire, due dei partecipanti hanno dovuto abbandonare la competizione a seguito di una sfida immediata, essendo finiti agli ultimi posti in una classifica stilata tra i loro compagni. Ma le sorprese non sono finite qui. Gli appassionati più attenti hanno anche notato l'assenza di uno dei giovani allievi. E c'è una ragione molto personale dietro questa assenza. Il giovane allievo, Matthew, non era presente durante le registrazioni del 23 novembre 2023, come hanno rivelato alcune fonti interne. In studio, hanno comunicato semplicemente che Matthew aveva delle questioni personali da affrontare. Pochi istanti fa, la sorella dell'allievo Anna Pettinelli ha condiviso un toccante messaggio su Instagram riguardo alla scomparsa della loro nonna. Nel post scriveva, Ciao nonna, appena posso verrò a trovarti. Ogni volta mi dicevi che mi avresti aspettata. Con te se ne va un pezzo del mio cuore, della mia anima. Se ne va un pezzo di me. Un momento toccante che ha reso ancora più speciale questa giornata nei corridoi di Amici di Maria De Filippi.